E' cominciata la fase 2 e con il suo arrivo vari comuni del Cilento non si sono fatti trovare impreparati attuando iniziative per affrontarla al meglio. Il comune di Castellabate in vista di questa nuova fase ha emanato un'ordinanza in cui specifica delle vere e proprie regole da seguire come ad esempio le visite ai congiunti che per i non residenti saranno limitate dalle ore 8 e 30 alle ore 19 e 30 permettendo l'accesso nei cimiteri a massimo 15 persone alla volta riaprendo i mercati di vendita di soli generi alimentari ma anche negando fermamente gli accessi alle seconde case e regolamentando le imprese esterne di edilizia a dover comunicare al comune l'arrivo nel paese almeno 48 ore prima. Il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri ha già annunciato un'ulteriore intensificazione dei controlli già dai primi giorni della fase 2 così come il comune di Centola che in seguito all'eccessiva presenza di veicoli e persone di ieri sul territorio comunale aumenterà i controlli e predisporrà la sanzione per chi non rispetta le distanze e non indossa la mascherina. Il comune di Piaggine invece ha previsto per l'anno 2020 la riduzione del 50% su tari ed acqua e l'esenzione totale della TOSAP per gli esercizi commerciali che hanno subito la sospensione obbligatoria delle attività. Aperture dei cimiteri anche a Camerota e Roccadaspide sempre con regolamentazioni precise e l'obbligo di rispettare tutte le norme di sicurezza. Grazie Grazie